Concludiamo queste due settimane di tour che abbiamo fatto precampionato perché il campionato inizierà il 12, voglio ricordarlo, al Palacardella alle ore 15 giocheremo la prima importante partita del nostro campionato di A2 contro il Benevento e adesso concludiamo, come dicevo, queste partite diciamo precampionato con la Nazionale Maltese con le quali siamo gemellati da tempo e ci ha fatto piacere ospitarle e le ospiteremo per questi due giorni più che altro è stato un allenamento insieme con una partita finale ma domani effettueremo praticamente, definiamola la vera partita amichevole e ormai siamo arrivati alla fase finale quindi dobbiamo un attimino stringere un pochettino le fila ed essere pronti per il giorno 12. Bello essere invitati qua per questo raduno, per noi il primo raduno della stagione per la Nazionale fare un po' di chilometri per le ragazze che tanto serve e affrontare una squadra di giocatrici di livello per noi questa è una Nazionale che ha appena iniziato i lavori e quindi è un'occasione importante per noi speriamo che si ripeti e avremo l'occasione di ritornare qua, forse invitare le ragazze a venire da noi perché per noi è un'occasione importante per imparare, per prepararci, per continuare il lavoro è stata una partita abbastanza bella dal punto di vista del gioco è normale che prima amichevole, prima dell'inizio del campionato dobbiamo aggiustare un po' di collaborazioni con le giocatrici però diciamo che siamo soddisfatte di questa partita